A calciopassi abbiamo Alessandro Venezia, primo finalista del torneo SAP, oggi avete vinto contro una cavalleria tosta, parliamo un po' della partita. La partita è stata dura, la partita è stata tosta, abbiamo avuto parecchie assenze, abbiamo avuto parecchie assenze purtroppo che ci hanno condizionato nel gioco, però fortunatamente siamo riusciti a sottenere con la forza di volontà, complimenti agli avversari che ci hanno messo più che in crisi, gli stringiamo anche la mano. Ricordiamo che avete vinto il rigore alla fine? Alla fine poi abbiamo vinto il rigore, dopo 1-0 siamo riusciti a pareggiare 1-1 con forza di volontà e poi alla fine cacci di rigore a oltranza il nostro portiere improvvisato è riuscito a parare nel re. Ricordiamo anche l'infortunio del nostro portiere che è sul calcio di punizione, è rimasto a terra con una presunta lesione o frattura alla spalla. In bocca al lupo al portiere e in bocca al lupo anche per la finale. In bocca al lupo anche a tutti gli assenti e speriamo che si riprendono subito e ci vengono a dare una mano d'aiuto che ne abbiamo bisogno. Ok grazie, ciao. Ciao.